Se non lasci like entro 5 secondi, oggi tropperai su Brawl Stars, quindi 5, 4, 3, 2, 1 Spero per te e per le tue coppie che tu abbia lasciato like Oggi ragazzi indosso la mia super maglietta perché andremo a fare una super challenge Andrò a giocare delle partite su Brawl Stars e se dovessi perdere ragazzi andrò a fare delle flessioni a testa in giù come penitenza Per la precisione ben 10 flessioni a testa in giù Sto parlando di queste qui ragazzi Quella era una, se perderò ragazzi ne farò 10 Prima di iniziare un saluto a Giovanna Fallanca che ha scritto hashtag ciao qui sotto lo scorso video quindi ciao Giovanna Quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e andiamo a selezionare casualmente Sì perché a me le cose semplici non piacciono come ben sapete Il brawler che dovremo utilizzare nella prima sfida Clicco così a caso stecca perché sempre stecca che non lo so usare cacchio Userò stecca scoppiettante ragazzi che è il premio che mi sono autodato per il raggiungimento delle 12.000 coppe Ragazzi stecca io me lo gioco in assedio E' appena uscita la modalità assedio cioè l'hanno appena cambiata Boom 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 Vediamo vediamo ragazzi ma sento me la sento ragazzi Così come sento che state lasciato like perché se non la lasciate Eh di cosa stiamo parlando Allora allora no no quel mortis secondo me ci darà tanti di quei problemi che mamma mia Allora no 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 ok buona buona lì buona lì buona lì Ciao ciao mamma mia Silurato silurato Ma ragazzi di cosa stiamo parlando A te ti siluro ti siluro ti siluro Silurato anche a lui ragazzi Mamma mia ho assemblato il robot da solo in pratica Sono velocissimo sono una saetta perché ho l'abilità stellare che mi permette di correre più velocemente Ok ok vado dritto forse riesco a farlo rimbalzare Mamma mia ragazzi i big danni i big danni Ragazzi siamo riusciti a buttare giù la cassa con un robot livello 2 Ma è una roba mai vista questa Un mega gigantesco GG al team che mi ha permesso di fare questa cosa Team di random come al solito Ma noi non ci fremiamo e andiamo avanti nella nostra challenge Un altro bro è totalmente casuale io clicco Uh Mr.P ragazzi lo adoro lo adoro mi piace un sacco Mr.P E ce l'ho anche già al grado 18 Mr.P signori lo andrò ad utilizzare in arraffagemme Speriamo in un team decente ragazzi perché in arraffagemme Il team giusto fa davvero differenza fidatevi fidatevi Ecco il mortis che non grabba le gem non l'ho mai visto questa mi è nuova Il mortis che si fa i fatti suoi e non va a grabbare al centro Boh ragazzi qualcuno gli spieghi come si gioca Aia 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 mi sta per stilurare ok Riprendiamo la vita lì c'è una bella da qualche parte nascostissima Ok infatti l'ho presa l'avevo un attimo predictata da lontano senza manco vedere Ragazzi oh 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 con calma con calma con calma Infatti infatti è vero io c'ho i robottini mi ero scortato di questo piccolo particolare Ciao ciao mamma mia mamma mia Grabba la gem e scappa No no devi scappare non devi prendere gli altri avversari Che senso ha scusami Ok ottimo ottimo No ciao ciao non te l'aspettavi Te beccati sto regalo di Natale Allora ok mancano due gemme Siamo messi abbastanza bene Quello è il primo deve morire Prima di mo cioè non a mo Prima di mo ragazzi Ok buona 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 Mamma mia ragazzi Ve l'ho detto che il team giusto Cambia totalmente la situazione Prendo anche quest'altra gemma Perché ragazzi sono avaro Sono stra avaro Guardatemi i robottini come stanno a fai danni Mamma mia ragazzi Il delirio Il delirio ragazzi No mortis Non morire per favore grazie Non ci credo Non ci credo è morto Ma no per mortis Mortis è morto Dai manca pochissimo 10 9 No ti prego Ti prego sta per accadere Quello che non può accadere Ce la faremo a vincere Sì perché ha 10 gemme Tutte quante Eugenio Seconda partita E volevo dire Seconda partita vinta Ragazzi E sono di nuovo Il migliore Continuiamo con un altro brawler ragazzi Vado click uscita Ems Devo scegliere tra footbrawl e sopravvivenza con Ems Boh ragazzi Me la gioco in footbrawl Ma La vedo dura Ok ok Siamo in partita Siamo in partita Ragazzi Più spammo i miei colpi A più non posso Dai Dai Allora ragazzi Io in realtà con Ems Qui in footbrawl Non so benissimo come giocarmela Cioè io devo Devo Killare gli avversari O cosa Fare piazza Vabbè vabbè ma se Cioè ma abbiamo Abbiamo contro Delle scimmie Cioè stanno giocando Degli scimpanze ammaestrati Cioè voglio dire Ma Ma li potete mettere a lato Cacchio Un po Un po di amor Proprio per Per questo gioco Insomma Cioè Cioè ma Ma davvero li fate killare In questa maniera Ma come fate Come si può Come può farsi killare Uno in questa maniera Tento di fare il trick No Ok ragazzi La palla è entrata Cioè si sono arresi No Come Come potevano Vincere ragazzi E così fanno Tre partite Su tre vinte Ragazzi Ma io vado ancora avanti Perché Io non mi voglio bene Se mi volessi bene Chiuderei qui il video Invece no ragazzi Io continuo Con un altro Brawler casuale E mi manca solo Sopravvivenza Quindi Oh Clicchiamo Chi è Oh cacchio Devo andare Con Pocio In sopravvivenza Singola E ragazzi Le regole sono Le sempre le stesse Per vincere Dobbiamo arrivare O primi O secondi O terzi Anzi ragazzi Ve la cambio Oggi cambio un po' Le regole In tavola Se Se arrivo Primo Non faccio nessuna Flessione Se però Dovesse arrivare Secondo Oh Vabbè decimo Cioè decimo Che ne so Ne faccio venti Se arrivo decimo No Ma state scherzando Che cosa Ho appena detto Che cosa sta succedendo Non ci credo Ma perché Ho appena parlato Cioè se arrivo decimo Ne faccio venti Ma chi me l'ha detto A me Di far Di dirlo Non lo so Come le farò Le spezzo Sicuramente Però mi tocca Mi tocca Farle ragazzi Questo video Non uscirà mai Perché tanto Muoio prima Raga Io le faccio Ma tipo Iscrizione E like Istante Cioè Per forza Uno Due Sete Quattro Cinque Sei Sette Quattro Dove Dieci Un Tornici Trenici Quattornici Quindici Sedi Dici Diciasette Diciotto Diciotto Diciotte 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 Comunque sì ragazzi Se questo video vi è piaciuto E non può non piacervi Perché stavo morendo lì A fare le flessioni Quindi Deve per forza Estervi piaciuto Lasciate Un bel like E di iscrivete A canale Se vi è iscritti E seguitemi Su Instagram Se ci sarà ancora domani In un prossimo video Ciao 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 Ciao